Sono fermi ancora al mese di luglio gli stipendi dei 95 lavoratori e lavoratrici dell'ATI, ovvero l'associazione temporanea d'impresa costituita dalle cooperative Progetto Vita e la Città del Sole, che si occupano dei servizi di assistenza domiciliare anziani e disabili e asili nido. Ad evidenziarlo sono le organizzazioni sindacali CGL Cisle Will che rilevano ancora una volta il cronico ritardo ingiustificato degli stipendi, pur sapendo che il presidente dell'ATI ha già ricevuto con valuta del 15 e 16 novembre l'accredito dei mandati di pagamento di agosto e settembre, una situazione ormai insostenibile per i lavoratori che hanno chiesto alle organizzazioni sindacali di muoversi per reclamare i loro diritti, mentre i sindacati a loro volta chiedono una maggiore vigilanza da parte del Comune. La situazione ad oggi, io ho saputo che qualcuno degli asili ha ricevuto il bonifico, ma non tutti, ma ti parlo che ad agosto le fatture degli asili e i compensi sono di 50-100 euro, perché ad agosto si pagano solo le ferie non maturate. Per quanto riguarda settembre, pur avendolo incassato con valuta 16, non ha effettuato alcun pagamento e non ha effettuato alcun pagamento Città del Sole, né per agosto né per settembre. Quindi abbiamo, se vogliamo parlare di una disparità, se al solito fra dipendenti alcuni ricevono lo stipendio, alcuni non lo ricevono, ma il vero problema è quello che queste lavoratrici, pur andando ogni mattina, come ognuno di noi che ha un lavoro a lavorare mettendo benzina nell'auto per raggiungere gli asili, non vengono mai ogni mese pagate quando dovrebbero, non vengono manco pagate dopo un mese, due mesi, siamo sempre alle solite, ma noi chiediamo al Comune un controllo sui pagamenti da parte delle ditte, perché le ditte che si aggiudicano una gara d'appalto, quali è l'ATI, devono avere la capacità economica e tecnica, questa capacità economica si dovrebbe tradurre nell'anticipo di almeno due stipendi qualora non arrivasse il pagamento delle fatture del Comune. Ebbene, questo è avvenuto qualche volta, ma per un mese solamente e mai per i due mesi, noi chiediamo al Comune di vigilare in tal senso.